Wella ragazzi ciao a tutti da Nick bentornati qua su Minecraft Ragazzi come sempre prima di cominciare con il gameplay vi vado a ricordare che se può interessarvi in descrizione trovate un link che vi permette di comprare questo e tanti altri giochi scontati In descrizione trovate anche i miei canali social e poi mi raccomando raga se non siete già iscritti al canale ovviamente io vi invito a farlo E successivamente mi raccomando attivate la campanellina per ricevere una notifica ogni qualvolta carico un nuovo video sul canale Allora ragazzi dunque stavo un pochettino espandendo qua dietro perché vi stavo a dire che la casa tutto sommato è un po' piccolina quindi vorrei un po' allungarla La voglio un po' allungare e in più mi serve anche un po' di spazio per metterci una scala per andare su ovviamente Allora vediamo un po' Saliamo Speriamo che questi blocchi ci bastano che non ne abbiamo altri Ok praticamente Qui ci facciamo anche una scala L'ideale sarebbe una scala a chiocciola perché? Perché siccome dobbiamo ancora ingrandire casa Allora mi serve Cioè se no come faccio a ingrandire casa Se dietro c'è una scala Quindi in qualche modo Allora di fatti dato che dobbiamo ingrandire la casa Questo muro lo togliamo completamente Allora il bagno di sicuro lo facciamo qui Verso qua Perché ovviamente non posso mica fare il bagno con la finestra Ovviamente no La scala Innanzitutto mi serve una scala L'ideale è una scala a chiocciola Perché la scala a chiocciola mi permette di risparmiare Ovviamente spazio Dai che comunque la casa sta venendo su abbastanza bene Mi piace Ok Mangiamo Pausa pranzo Dunque ok devo andare a ricaricare questo attrezzo E intanto che andiamo a ricaricare l'attrezzo Vediamo che tipi di scale ci sono Dobbiamo anche vedere i mobili da mettere dentro casa Ma più che altro il problema raga non sono i mobili Il vero problema nostro È come creare le stanze I materiali soprattutto Perché ovviamente tutto bianco può anche non piacere Quindi la parte più difficile è Sfruttare bene lo spazio E utilizzare magari qualche materiale più carino E non tutto bianco Quindi questa è la parte più difficile Allora andiamo a ricaricare questo Che è scarichissimo E la situazione Qui ancora si va avanti Si era bloccato il macchinario Purtroppo l'ho sbloccato da poco Ancora c'è un po' di lava L'altro l'ho messo a caricarsi di lava Va bene dunque Le scale ci sarà sicuramente Che devo scrivere qua per la scala Come si chiama la scala in English? Ah già si chiama Stire E direi che Si spiral Eccola qua Beh c'è quella bianca Ma direi di no Se fanno tutto bianco brutto è Facciamo questa qua Allora la scala Credo che conviene farla da questo lato Perché è il lato Meno ingombrato Qui è più ingombrato Vediamo un po' Come caspita funziona Ogni tanto si vede Ogni tanto no La potrei mettere qua È un'idea Direi che non è niente male Il vero problema è che non ha Il vero problema è che non ha Diciamo una ringhiera Quindi si cade Ok Molto meglio Per forza Va bene il fatto che qua Rimane aperto Va benissimo Ok Questo è l'ideale Questo è l'ideale Ok Per forza E sempre No vabbè Che fregatura è Ah ci potrei mettere lo slab Eh purtroppo Sa che di meglio non si può fare Ok Va bene Ci sta Dai Alla grande Purtroppo Se lo metto qua Ah posso scendere E devo No Se lo metto qua Ci sbatto Ok Direi che non c'è scelta Eh non è che si può fare Diversamente Quindi Direi che non si può fare Diversamente Va bene Eh quindi Qua vado a metterci Questo Eh non lo so Però rimane sto buco Non so come sfruttarlo Allora di sicuro Mi conviene Tappare Per forza C'è la scala qua O no Beh qualcosa Devo pur farla La scala così Che si vede Non mi piace Penso che mi conviene Scendere un bel muro Qualche cosa Non lo so Ok Eh no Qui non si può chiudere Così Una finestra Per guardare Da questo lato Eh lo so C'è parecchio bianco Lo so Lo so Pensavo di cambiare Il pavimento Magari qua Invece di bianco Sempre legno Non ne sono ancora Totalmente sicuro Perché è difficile Scegliere Comunque Senza un po' di dubbio Beh se ci devo fare Il bagno Qua qui sopra Che caspita Ce faccio Ok Mi è venuta l'idea Di quello che possiamo Fare qua Ci potremmo fare Un piccolo Giardino Con un paio di fiori Oh più di quello Non mi viene in mente Niente Qualcosa di simile Raga Perché Se no Che caspita Ce famo Non ne ho la più palida idea Direi che è l'unica idea Un Qualcosa Un po' di verde Ci mettiamo un po' di verde Una piccola zona verde Più di quello Sinceramente Non mi viene in mente Nient'altro Quindi Ci potrei mettere Per ora La terra E tappo Con la terra E poi Con calma Ci facciamo Un giardinetto Maronna Mi sono cagato sotto Vabbè Per ora Fiamo così Tappiamo Poi Ci rifletto Almeno Almeno Una piccola idea Ce l'ho Allora Dato che Non ho Tocco di velluto Se voglio Far arrivare L'erba Qui Per ora Mi tocca Fare una cosa Dato che Tocco di velluto Non ce l'ho Facciamo in modo Che il verde Si espande Quindi ci colleghiamo Qui con questo verde E pian pianino Il verde Si espanderà E poi Tappiamo Di nuovo Quindi per ora Facciamo così In modo che Il verde Passa Quindi per ora Qui mi conviene Lasciare aperto E via Non lo so Va bene Beh Qui potrei fare Tutto In legno Non è meglio Penso di sì Qua purtroppo Rimane così Non c'è altro Che posso fare A meno che Non ci metto Del vetro Volante Magari Eh potremmo Fare così Eh Boh per ora Raga Sapete che Le idee Mi vengono Man mano Che gioco Allora Qui Diciamo che È un po' Pericoloso Che posso Cadere Ma Che ci vada Ma mi è venuta In mente Un'idea Ci potrei Mettere E che ci metto Sempre la solita Legna Ah magari Giusto per provare Cioè Praticamente Qua ci potrei Mettere Qualche Decorazione Beh Quanto meno Non cado Di sotto Ci potrei Mettere Qualche cosa Decorativa Qua Eh Non lo so Magari pure Qua Che piccola Decorazione Difficile Scegliere Raga Alla Le torce Per ora Ne mettiamo Qualcuna Qua e là Allora Dunque C'è anche Da dire Che Ecco Dovevamo Fare un buco Verso la montagna Sapete che cosa Mi conviene Fare il buco Per di qua Perché se Faccio un buco Per di qua Mi rimane Ancora meno Spazio Per la casa Quindi Famo una cosa Il buco Che va Verso la montagna Lo facciamo Qua Cioè Perché Ricordate Nella montagna Ci mettiamo I macchinari E tutto il resto Che cos'è Che accade Ah vabbè Ovviamente Mi toccherà Tappare Sì Mi toccherà Tappare Qui sopra Vabbè Il buco Che va Verso la montagna Dove ci mettiamo I macchinari E tutto il resto Beh Quello Lo scaveremo Per di qua Qui ne abbiamo Di spazio Per macchinari Casse Tutto Tutto Quello Che è Lo si mette Qua dentro Quindi Qua dentro Ci sarà I macchinari E tutto il resto Allora Dunque Ok Il bagno Senza ombre di dubbio Sa da mettere qua Credo che Mi conviene Allora Cambiare il pavimento Così evitiamo Di mettere sempre Tutto bianco Non è bello Ok Ho rimosso il pavimento Ovviamente Questo che c'è sotto È quello che si vede Di sotto Ho lasciato poi Come sempre Un po' di spazio Per passare Eventuali cavi Eventuali cavi Devono passare Proprio per di qua Quindi Questo materiale Lo posso anche Recuperare Va bene Dunque Dobbiamo mettere Un materiale Per tutta casa O la legna Non lo so Qualcosa Ce la devo mettere Beh che ci metto Se non ci metto L'unico materiale Bello La legna Allora Che Rieccoci qua Dunque Si sta Cominciando A espandere Il verde Questo è buono Così qua Ci facciamo Una piccola Zona Verde Allora Qui Zona Scavo Per la montagna Ok Allora E mo qua Ci mettiamo Invece Un po' Di legno Perché il legno È più bello Da vedere Anche perché Tutto bianco Da fastidio Allora Che materiale Andiamo ad utilizzare Proviamo Wackwood Planks Vertical Almeno Sono diversi Da quelli Che ho usato Sopra Tanto pure Che se rompe Sto coso Allora Innanzitutto Piazziamo Il primo strato E poi Con il Wand Si prosegue In un attimo Se fa Ok Va bene Allora Comunque Sempre qua Ci devo fare Il bagno Ovviamente Qui l'angolo Bagno Ancora Non so Di preciso Che fare Qui Di sicuro Devo tappare Però questo Sa da tappare E me sa Che forse Mi conviene Tapparlo E beh Col bianco Quello abbiamo Cioè Almeno Il tetto è bianco Andiamo avanti Col bianco Allora Non è mica Complicato Anzi È una cavolata Ok Vediamo A posto Ok Ok Beh Tecnicamente Allora Dovrei Continuare A espandermi Cioè Tutta casa La devo fare Con questo legno Ovviamente Altrimenti Che senso Tutta casa Direi che Sa da fa Uguale No Al massimo Poi Poi magari Nel bagno Cambiamo Il materiale Perché giustamente Il bagno Non lo so Si può Cambiare Oppure lo teniamo Così Non lo so Togliamo pure Questo Che è lo spazio Quello per eventuali Cavi Semmai Questo è lo spazio Sotto Per far passare Dei cavi Eh di sicuro Questi non Mi bastano Ok Allora Se vogliamo Preparare Tutto il necessario Per Per la casa È meglio Che mi procure I materiali Quindi Ecco Già qua dentro Tipo C'ho da svuotare Un po' Perché è Troppo Pieno Soprattutto Il ferro Che magari Anche oro Ne abbiamo Troppo Anche Copper Ne abbiamo Troppo Copper vale Mi sa poco L'oro vale Molto di più Allora Facciamo così Oro Perfetto Uno stack Di oro Anche due Mi da 27.000 Di mc Così possiamo fare Parecchie cose Tanto L'oro Non mi manca Abbondante Quindi Mi serve Ebbè Mi serve Almeno Due stack Di questi Due Di giallo Che mi pare Ci voleva pure E un po' Di là Oddio I lapislazuli Quanto costano Li mortacci E poi Mi serve Il clay Ecco Quel No ink Che ink C'ho Faccio Con l'ink Comunque Il blu Porca miseria Costa un botto Ok Allora Così ci Procuriamo I materiali Per Costruire Ok Facciamo Questi No ma Non ci vuole Il giallo Ci vuole Il verde Mannaggia Ho sbagliato Il giallo Non serve a niente Ehi Però qualcosa La fa lo stesso Uh Il giallo Mi da Sia verde Che rosso Interessante Non lo sapevo Va bene Ok Allora Comunque sia Adesso Abbiamo bisogno Di Considerare Insomma Per la casa Per la casa Dunque La lavatrice L'asciugatrice Il computer C'è l'estintore Quello magari più avanti Non lo so La La radio Climatizzatore Deumidificatore Vabbè Vabbè a voi A voi A qua Ce ne vuole Ah c'è anche Il computer Moderno Non l'avevo notato C'è la Wii Non so che cacchio È questo Vetro a sinistra Schermo a sinistra Vabbè Portatile Vabbè Diciamo che Sto mischiando Roba moderna Con roba Vecchia Piccoli dettagli Diciamo che Ce ne vuole No Nel senso Ce n'è di roba Non riusciamo A mettere tutto La scrivania Per il computer La sedia La pigliamo gialla Sì Questa roba La devo mettere In una cassa Perché Perché ho preso Cosa a caso Living room Ci vorrà Un botto di tempo Per fare All'interno di casa Un botto di materiali Pure A voi Book C'è Il coso Con i libri Dobbiamo fare Una cassa Così Conserviamo Le cose Ancora Devo fare Le suddivisioni Allora Intanto Andiamo A ultimare Questo Ok Ok Dobbiamo fare Una ulteriore Cassa Così Conserviamo I materiali Anzi Famone Una bella Grande Per ora Magari La piazzo Qua Perché Tutti Sti Cosi Non so Dometterli Al momento Ok Dunque A parte Le luci Che Fanno schifo Scarseggiano Ma a parte Quello Dunque Sto pensando Ragà Che lo spazio È comunque Poco Cioè Il discorso È Devo fare Il bagno Alla stanza Da letto Più Salotto E cucina Quindi Il bagno Lo faccio Qua La stanza Da letto La devo Fare Qua Anche Quella Non deve Essere Mica Con Le mega Finestre No Quindi Devo Sfruttare Un po' Questo Spazio Verrà fuori Un bagno Piccolo E Verrà fuori Una stanza Da letto Altrettanto Piccola Per forza Direi Però Più o meno Un'idea Ma la sono fatta Che Devo andare avanti Con sto bianco Mi sa I muri Sono quelli Si va avanti Col bianco Mi sono fatto Più o meno Un'idea È un po' Scarso Come spazio Ma Non è che C'è tanta Altra scelta Vediamo Purtroppo Il mio problema È lo spazio Ok Allora Noi mettiamo Comunque Il bianco Poi Alla fine In futuro Tanto Riempiamo Questo muro Di decorazioni Quindi Magari Il bianco Si noterà Di meno Ok Facciamo Una Separazione Qua dentro E il bagno Eh Verrà piccolo Non c'è dubbio Ma anche la stanza Da letto È piccola Ahimè Se no Mi devo allargare Ancora di più Verso L'interno Però Boh Si Mi sa che forse Mi conviene Allargarmi di più Verso l'interno Per poter fare Qualcosa di più Grande Ok Allora Per poterci Ingrandire Di più Nasce Il problema Eventualmente Vabbè Non mi va Di ingrandirmi Ancora di più Di sopra Solo di sotto Quindi Dobbiamo un po' Vedere Come che Aspita Famo Vabbè Per ora Creiamo un po' Di spazio Dove a noi Serve E poi vediamo Come famo Ok Beh almeno qua Si è allargato Il verde Quindi posso andare A chiudere Perché mo Qua c'ho bisogno Di scavare Vabbè Poi dobbiamo mettere Il vetro qua Che per ora È In una cassa Ok Allora Vediamo un po' Mmm Beh qua no Perché mo Qua c'è Tiro il muro Già mi sembra Abbastanza Decente Ok Beh diciamo Che È chiaro È qua Il problema Difatti qua Vi stavo a dire Non mi va Di creare Troppo Quindi Questa parte qua Che non voglio Mostrare La copriamo Semplicemente Con un po' Di terra E questa parte qua Non la facciamo Neanche vedere Come se non esiste Questa parte Di sotto Ok Va bene Allora Può andare così Mo Non si nota Più Diciamo Vabbè Si vede che Arriva fino a lì Quando però Di sotto È più grande Qua ci abbiamo Quindi il verde E Devo solo Prendere un po' Di bianco Così Tappiamo Quello E mo Almeno abbiamo Più spazio Abbiamo più spazio Per il bagno E abbiamo più spazio Per Per Bagno E E Stanza da letto Qua Allora Giustamente Mi conviene Chiudere Così Ok E Qui ci facciamo Il Bagno Direi che Ci può stare Ecco qua Bedroom Allora Non lo so Prendo uno Di questo Vediamo un po' Com'è Di notte Ma Quelle Sospente Le devo Accendere Manualmente O no Ma ne fanno Luce Ste cose Sinceramente Ste due Me deludono Non fanno Proprio Luce Queste Invece Ne fanno Pure Troppa Ok Vabbè Pensava che Dovrò Cambiare Le luci Qua Poi Vediamo Sotto Bene o male C'è Della luce Ah Queste Mettere Qua Qua Il profumo La luce Nel tetto Se è possibile Con Questo Che allunga Verso il basso E Questo Com'è Troppo Troppo basso Probabile Ora è corretto Ora è corretto Ok Ok Poi Dunque Giusto Per Perché ci stanno Direi Così c'è più luce Qua dentro Guarda roba Quindi Magari ne metto uno Qua Un bel Armadio Messo Qua Ohi Ragnetti Che mi entrano In casa Questo Dov'cavolo Metto Perché Questa È tutta Roba Ah Sì Vabbè Non abbiamo Il neonato Per ora Potrei Metterlo Qua Ah Ma Questo È a due Pezzi E allora No Non lo metto Proprio Perché ci manca Il pezzo Accanto E Vabbè Diciamo Che è da Migliorare Questa Stanza Da letto Perché Vabbè A parte Le porte Il bianco È quello Che stona Ci vorrebbe Un materiale Un po' Mi sa Che dovrei Cambiare I muri Non lo so Raga Lo so Il bianco Rompe un po' Le balle Ma A prescindere O se no Dovrei trovare Un materiale Tipo A scacchiera Devo trovare Qualche altro Materiale Possibilmente Lo so Raga È difficile Inquadrare Bene La situazione E trovare I materiali Belli E giusti È un po' Complicato Però Ok Ci vuole Tempo Per ora Raga Mi devo Fermare Che è volato Via Un botto De tempo Però almeno Sta prendendo Forma La nostra Casa Ragazzi Spero vi sia Piaciuto Il gameplay Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel Pollicione In su Ci becchiamo Presto Ragazzi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie a tutti.